Buondaybetaste.it! Qualche giorno fa, una settimana, due settimane fa, Vincenzo Mollica è andato in pensione, Vincenzo Mollica è un giornalista, è un divulgatore artistico che può piacere o non piacere, c'è chi critica il fatto che sia di manica larga, difficilmente lo si sente parlare male di qualcosa, però con il suo entusiasmo è innegabile che abbia fatto entrare nelle case di molti italiani film, prodotti, canzoni e soprattutto fumetti, ha parlato di fumetti, queste strisce alla fine del TG1, io mi ricordo da bambino quando mio padre mi chiamava e metti sul TG1 che stanno parlando di un fumetto, in un'epoca in cui non era ancora così mainstream, così normale che il fumetto andasse in televisione con un GP, un Maccox, uno Zero Calcare, come avviene fortunatamente oggi. Ecco, Vincenzo Mollica ha fatto tanto, ha dato tanto per il fumetto, è stato un appassionato di cinema e mi piace pensare come un omaggio a lui le più belle storie Disney Cinema pubblicato da Giunti. Come sappiamo, come forse sapete, i diritti di pubblicazione Disney si dividono fra panini per le edicole, le fumetteie, gli albi periodici che escono regolarmente, Giunti invece confeziona questi volumi da libreria che si trovano facilmente in bella mostra nelle librerie di Varia e questa uscita appunto racconta il cinema, a cominciare Dalla Strada, omaggio a Fellini, c'è anche una sorta di remake della Dolce Vita, quindi ci sono due storie che omaggiano Fellini e proprio Vincenzo Mollica scrive l'introduzione di questo volume raccontando del suo rapporto con Fellini, di quanto Fellini sia stato entusiasta della storia di Topolino dedicata alla strada. Era veramente emozionato, per lui era importante come un Oscar. Mollica tra l'altro nell'introduzione fa questo racconto che mi ha fatto sgranare gli occhi, che era cena con Fellini parlando con lui e Fellini disegnò, dopo la storia su Topolino dedicata alla strada, un Topolino e un gamba di legno su dei tovaglioli. Poi Mollica sulla strada verso casa ci ha ripensato e ha detto no, aspetta, è ricorso al ristorante per prenderli, ma li avevano già buttati via, pensate ad avere un Topolino disegnato da Fellini, oggi sarebbe un tesoro. Vabbè, Mollica introduce questo volume ed è anche protagonista di una storia forse la più riuscita, la più memorabile di questo albo, dopo le due dedicate a Fellini. La strada è un omaggio ormai pubblicato più e più volte, se non l'avete mai letto questo volume è l'occasione giusta per farlo. L'omaggio alla dolce vita è altrettanto piacevole, la strada è disegnata da Cavazzano, su testi di Marconi, invece la dolce vita è disegnata da Mottura, con testi di Ponti e Gagnor. Dopo queste due storie di Fellini, la mia terza storia preferita di questo volume, quella che è riuscita a spuntare il podio, è un racconto in cui compare Paperica. Paperica è l'alter ego paperesco di Mollica, che in questa storia che si intitola Paperica e il doppio fiasco di successo, sempre disegnata da Cavazzano, Paperica deve organizzare un festival cinematografico, cerca di coinvolgere Paperone e Topolino, ma devono fare i conti i due con il Bassotti e Gamba di Legno. Divertente il fatto che Topolino e Paperone si scambino i nemici. È una storia piacevole, il soggetto è carino, quello che la eleva dal punto di vista qualitativo è la sceneggiatura di Vitaliano, sono veramente delle battute, dei dialoghi, delle vignette su cui soffermarsi, perché i dialoghi sono un grande valore aggiunto di questa storia. Il resto del volume è un po' un mix, non c'è una selezione molto ragionata. C'è il tema del cinema, come filo conduttore vediamo Paperone che cerca di fare dei film risparmiando, vediamo Paperina e Paperoga che cercano di introdursi in un cinema senza pagare per vedere un film e quindi si intrufolano come maschere, come venditori di popcorn. Queste storielline simpatiche, piacevoli, carine. Archimede inventa un macchinario in grado di trasformare in film i pensieri, ma ci sono degli inconvenienti perché il pensiero spesso è mutuato dalle distrazioni o dalle convinzioni di ognuno. Ecco, queste storielline sono carine, nel complesso appunto la selezione non è altrettanto valida come sta avvenendo nei volumi panini, mi spiace fare questo confronto però, è oggettivo. La panini ha un occhio editoriale nella composizione dei sommari, in queste testate come le Definitive Collection, i Grandi Maestri. Le più belle storie Disney con Lana Giunti, che ormai conta diverse uscite, è sempre un po' un calderone che per chi magari non legge il fumetto Disney è un'ottima occasione per recuperare un po' di storie. Però ce ne sono appunto una manciata veramente valide, le altre sono un po' un riempitivo non c'è un discorso. Ci sono due serie di storie brevi, una intitolata Paperi al cinema, l'altra Andiamo al cinema, sono storielline brevi che però si consumano nel giro di qualche decina di pagine. Non c'è un discorso continuativo, peccato. Peccato anche perché leggendo questo volume stavo ragionando che la coincidenza, la pubblicazione in concomitanza col pensionamento di Mollica, poteva essere una bella occasione per fare una sorta di volume dedicato a Paperica, cioè una raccolta solo di storie di Paperica. Sarebbe stato bello, sarebbe stato comunque appropriato al cappello in copertina, alla scrittona cinema. Che dire, comunque mi ha sorpreso il fatto che non si siano riproposte storie già lette, rilette, ristampate decine di volte come Casablanca. Io dalla copertina Le più belle storie del cinema mi aspettavo, oddio, ci sarà di nuovo Casablanca che da un certo punto di vista è dovuta perché era una storia a fumetti più belle, Disney, sul cinema. Però quando ho aperto il volume ho tirato un sospiro di sollievo perché ormai l'abbiamo vista ristampata in tutte le salse. Comunque, se volete vedere cosa combinano Paperi e Topini con l'arte del cinematografo, questo volume, Le più belle storie Disney Cinema, pubblicato da Giunti.